L'assurante Scimitar è stata coperta e questa cosa non è passata inosservata, come mai? Per proteggerla dall'intemperio ci sono dei lavori in corso? Sì, entrambe le cose, nel senso che necessitava di manutenzione ordinaria, stando anche fermo da due anni ovviamente si deteriora sempre di più come qualsiasi natante e quindi la necessità di fare questa manutenzione ordinaria e per poter lavorare per proteggersi dall'intemperio, quindi è stata coperta e viene fatta questa manutenzione approfittandone appunto di questa forzata chiusura perché siamo in questo nuovo posizionamento oramai da due anni che ci hanno concesso, che noi abbiamo gradito ovviamente rispetto a dove eravamo prima, però ecco, mentre inizialmente per avere questa autorizzazione nel lontano 2007 abbiamo messo sei anni per avere tutte le varie autorizzazioni, questo trasferimento di qualche centinaio di metri ci sta provocando già una chiusura forzata di due anni, noi ci auguriamo che il 2017 sia l'anno in cui si possa veramente ripartire, nella primavera del 2017, però ecco, varie questioni autorizzative, burocratiche, amministrative, che purtroppo in Italia abbiamo sempre continuamente, costantemente, nonostante le parole che tutti spendono e fanno continuamente, però concretamente i problemi sono sempre gli stessi purtroppo, viviamo in questo paese dove ecco, per fare una cosa di questo tipo rischiamo di stare chiusi anche il 2017, noi l'abbiamo coperto, come dicevo, per fare questa manutenzione approfittando appunto di questa chiusura e sperando che nel 2017 si possa ripartire con l'attività dello scimita.